Bella a tutti Fortniteers, benvenuti su LeonTube, in questo video vi facciamo vedere come fare la missione Cavalca, salta in groppa a un lupo o a un cinghiale in partite diverse Allora, per saltare in groppa al lupo, cosa dovete fare? Dovete avere con voi della carne, dargliela e mentre lui mangia vi avvicinate con la Y a salire Salire in groppa e questo l'avete fatto, quindi ora non ci rimane che addomesticare e saltare in groppa al cinghiale Anche se dobbiamo farlo in partite diverse, quindi ci rivediamo tra un po' Eccoci qua, andiamo a cercare di saltare in groppa al cinghiale Gli diamo un bel grano, metto il distratto, saliamo in groppa E la missione salta in groppa a un lupo o a un cinghiale in partite diverse è terminata Ovviamente possiamo salire in groppa sia a un cinghiale sia a un lupo Quindi questa l'abbiamo fatta, se il video vi è piaciuto un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici nei vostri social, mi raccomando Se vi va iscrivetevi al nostro canale, ci vediamo presto con altri video Ciao a tutti